Sono una settantina le persone finite nel mirino della procura, fra cui persone di Fano e di Pesaro, compresi due avvocati. Dopo una complessa indagine internazionale avviata nel 2013, è stato possibile sequestrare un dipinto attribuito dal professor Carlo Pedretti a Leonardo da Vinci, raffigurante Isabella d'Este e depositato in un cavo di una banca svizzera dal valore stimato di 95 milioni di euro. Le operazioni iniziarono quando arrivò una segnalazione su un avvocato del foro pesarese, che aveva il mandato a vendere il ritratto, un olio su tela. I carabinieri del nucleo tutela del patrimonio artistico di Ancona avevano scoperto che il quadro era stato esportato clandestinamente. Per questo motivo partì una richiesta urgente per procedere a sequestro del quadro, cui l'autorità giudiziaria di Lugano diede immediatamente esecuzione, ma gli investigatori trovarono il cavo vuoto. L'opera infatti era stata prelevata dai proprietari e portata altrove. Proprietari che, come affermato dal procuratore capo della Repubblica di Pesaro, Palumbo Manfredi, pare siano difano. Anche questa titolarità dell'opera va verificata, perché possono essere anche loro delle marionette in mano a interessi più grossi. Le indagini si sono poi incrociate con quelle della Guardia di Finanza di Pesaro, su una serie di truffe e danni di alcune compagnie di assicurazioni. Alcuni nomi di indagati risulterebbero nell'una e nell'altra inchiesta. Il dipinto, invece, è stato poi localizzato in una banca privata di Lugano, il luogo in cui è stato sottoposto a sequestro non appena gli investigatori hanno avuto la certezza che erano in corso trattative di vendita quasi concluse per un importo di circa 120 milioni di euro. Curiosamente, il ritrovamento della preziosa opera avviene proprio nel quarantennale del clamoroso furto a Palazzo Ducale di Urbino, di tre capolavori della storia dell'arte, tra cui la muta di Raffaello, la flagellazione e la madonna di Snigaglia di Piero della Francesca, rubati nella notte tra il 5 e 6 febbraio 1975 e ritrovati circa un anno dopo in un hotel di Locarno, sempre in Svizzera. I due episodi però non sembrano avere nessun collegamento fra loro. Giornata di soddisfazioni e di anniversari che ci lega a questa meravigliosa terra marchigiana, in particolare alla Montefeltro che fu culla di cultura, di civiltà. Mi permetto di aggiungere, lei diceva nella sua domanda il furto del secolo, io parlerei anche di recuperi del secolo perché la tenacia investigativa dei nostri padri e la perseveranza, la passione degli uomini e delle donne di oggi hanno consentito di riportare segmenti essenziali della nostra eredità culturale.